Allora ragazzi, stamattina come promesso, figherò il periodo di potenza. Tutti attenti per favore, tutti attenti ragazzi, a meglio, il periodo ipotetico si divide in periodo ipotetico della realtà, della cosiddetta e della idea. All'interno del periodo ipotetico, Chiara, assenzione Chiara, all'interno del periodo ipotetico dobbiamo distinguere la protasi e la podosi. Allora ragazzi, attorno del periodo ipotetico. Ancora 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 Oh my god! Grazie 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 Perché? 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 Andi ora perché? Magni perché ti aiuta Sì Fargo Vai Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Cosa va? Cosa va? Ma almeno tira da dentro. Ah, ma non è giusto. Quando si va a caccia, si va per uccidere il cipiato, non per segnare. Bisogna sparare per uccidere. Allora, Gianni, sto a saluto di me. Sono. Vai. In mezzo di X. Gli fai. X. Quali parte del lente? Un mezzo. X. Alla seconda. Che da parte? No, non è giusto. 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 Ok. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Voi dovrete fare le cose meccanicamente. Se io lo so... Cioè, voglio indire le scimmie. Anche le scimmie, poi, per fare una cosa meccanicamente. Sarei andato al zoo, avrei preso una scimmie e avrei fatto un'altra scimmie. Sarei andato al zoo. Poi dovrete capire perché fare le cose. Ragino, fai la parola. Sarei andato al zoo. 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 Ehi... Sarei andato al zoo. Ehi... Sarei andato al zoo. Ehi... La prossima volta? No, Romane, adesso. Quando ne abbiamo oggi? Sì, no, non me la senti, non me la senti, non me la senti. Allora, oggi è bell'8. Marci, Puccini, 32. Deve essere tu. Romane, non libero. Ok, ok. Vieni. No, professore, no, proprio oggi, ma proprio oggi, ma ci sono, ci sono, ci sono. No. No, due no, due no, due no, due no, il mio numero preferito è nuoto. Diviso 3. Diviso 3. Diviso 3. Romane, da. No, professore, già la faccio. La faccio. La faccio. La faccio. Ferri. Mi fa male la camera. Come faccio a ferire la? Non mi dovesse, Romane, ma che? Perciò, ti la serve. Perciò, la faccio. Alloraああ andrata, fermrazio. No, sei suolo. Non hai scritto da Hetma. La letta, la letta. Ma dico. Romane? Ma so solo il PTA. E il transport impassionabile? Va, no, what did you do. Allora, facciamo così. Calca finito e viene da ondezza. Calca, perdi e ci metto tutto. E se io ho la sua di spade o c'è la mia. Romane? che quando mi radio io sono proprio di serio dai, dai, Simo, vai no, tranquillamente ma Simo, almeno proprio questo ma due e mezzo è meglio di due esatto per me è un messo no, per me è un assenso ma Simo almeno faccio il lindo cosa prende ma vai fare, ma vai fare c'è carta merita, cazzo frattino cazzo vince carta merita allora cazzo vince vieni, mi derogarsi faccio il troppo non è che dai però Simo, sono proprio pace dai dimmi, parlami della TV e carta vince, carta vince, carta vince dì come dì? e tu non mi hai detto niente sta benissimo Dio doveva! Basta! Buongiorno! Non è nono Nelio, in me dita la bacione Castellini! Chi ha perso! Ok, vale! Castellini per capire! Mmm... Allora, oggi cosa abbiamo? Allora, classica di genio. Siete felicitati. Grazie. Stavo dicendo genio, classica di genio. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Sono due anni che arriva sempre in Italia. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Vi ammazzavate per venire a questa cattedra? Oggi chiamo io. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Siete felicitati. Chiuda il quaderno. Di sito di un'altra città contiene 5 tretti. 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 Un'altra città è il quaderno. E' il quaderno. Ronde l'occhio. Oceano. 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 Sono due anni che lo diciamo. Non è oceano. È oceano. Ehm... 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 Siamo all'ocenzo della sua barra? Sì o no? Non è la vista? Cusero, dove stai andando? Eh? Dove stai andando? C'è una barra. Va bene, qui il dito. Devo fidare? Sì. Allora, oggi vediamo... Fusero? Fusero? Aspetta un attimo, Fusato. Non chiede! Aspetta, no. Fusero, ti vedo ancora? Non è possibile. Così ti vedo? Così ti vedo meglio, Fusero? Vedi? Fa una per te, vieni all'interrogazione. Quando è l'interrogazione? L'interrogazione che sto rilassando. E perché? Ma stai facendo l'interrogazione? Aspetta. Vieni, andiamo. Stiamo facendo l'interrogazione? Stiamo facendo l'interrogazione? Sì? No. Sarò la linea di interrogazione. Ma come va? Non è possibile? Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Sì, è possibile? Sì, è possibile. Sì, è possibile. Sì, è possibile. Allora, già lo vediamo. Ma non siete proprio precisi? Prova, ma ma che ne hai messo il tempo? Quali tu siete? Quello. E ti ho visto della spesa? Ma c'è un tempo. Devo comprare un uomo. Allora, tu chesi qua, poi devi fare le partine così, così, e ti trovi così in centro, ok? E questo centro, c'è una porta, tu sì, è dentro. Ok, scendi le scale e ti ritrovi dentro un bar, devi chiedervi fondo. Tu esci e qua trovi una cascata, no, non vuole, trovi una cascata dove ci sono gli unicorni che stanno mangiando dietro i baleni e poi dopo vai, segui e trovi la pentola d'oro. Allora, scusate, cosa abbiamo studiato? Prova, ma lei è di te! Perché? Scusate, per favore, tu non troverai mai mani in consiglio che ho fatto le scale, ok? Mi dispiace di intere le carte, dico non questo, fammi leggere la mano. Sì, sì, proprio posso? Vieni. Allora, scusate, allora, scusate, come stai? Eh, da qui i capelli sono ancora più rispatti. Quando è che ti ritagli? Questa sala? Allora, scusate, scusate, scusate. SCUSA No, voi te cultivare o face de la un scurt. dovete sapere che queste guagno unicoie se dovete venire a scuoteca e se giocare a vivere e invece a ritiempire via se dovete venire a fare una passeggiata non lo vedete mai scopi i doni non lo vedete mai non lo vedete non lo so ma qui mi chiamo no sta portata ma c'è una cosa vieni cavolo ecce si che ti dico che ci vuoi stiamo andando a vedere vieni che già stai ehiacca buongiorno 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 cosa abbiamo oggi? prendiamo i spazi ragazzi devo dimagrire quest'anno non è cia dieta ve lo giuro dove sono andato? dove sono andato? dove sono andato? si che vuole non puoi andare arrivo? non è stai ancora una stessa ma mette in rotazione scusate mette in rotazione perché? non è che mette in rotazione trova quasi due allora siamo rimasti a Renzo che è? che è? che è? lui praticamente andava nell'osteria qualcuno mi vuole fare il riassunto della situazione anzi no adesso facciamo l'ideologia avete libri? eh si si pensere 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 il quattro fanno con le quattro donne si per prima che non so te va poi la cancella pai la linea del tempo pensere che tu non c'è il papa per la passata per la passata per fusano fusano cos'è cosa mi parla no sicuro ragazzi quello che vi manca quello che vi manca è la grinta la grinta come ce l'hanno delle persone di questa come marino guardate che grida marino questo è bene allora scrivi 1200 scrivi bene che sono ti mando a posto 1300 quando è? da volo 1304 nascita di vedete stava sorbo stai migliorando ci sto mettendo allora entri amore di mamma come è andata le sale prenda tutto tutta la madre sei tu tu hai mangiato? che cosa hai mangiato? si si è andata in bagno? quando si è andata in bagno? si è uscita? quando sei uscita? si è uscita? si è andata in bagno le lezioni non si si è andata in bagno a povertenze ma sono andata in bagno a povertenze questa è andata gentile cosa ci fai con quella per le camera di maio impatturo ti mandai veramente si stava in bagno a povertenze impatturo con la matita in mano impatturo Allora ragazzi, oggi, spero che tanto che non ci vediamo, che possiamo facciare una lezione, trattiamo un argomento nuovo, così, l'ultimi giorni, di che cosa parliamo? Della parola. Allora, la parola è quello strumento che noi utilizziamo per comunicare, ed è molto importante per noi, perché ci aiuta nei nostri conosci, con le altre persone. Questa cosa, quindi, è nata molto tempo fa dalle... Grazie. 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 che serve? Prova, ma voi accensiamoci? Poi, non te! Non ti sa che... No, non ti sa che... Grazie. Ma che si dice? È infinitiva! Sintori! E come mi fisse lei così io? Ho capito. Vabbè, ragazzi. Sì, stiamo. Sì, stiamo. Vai, stiamo. Sì, stiamo. Sì, stiamo. Sì, stiamo. Sì, stiamo. Mentre, ci becciano. a 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